cristo risorto veramente risorto alleluia alleluia benvenuti cari fratelli e sorelle a questo momento di preghiera dove proclamiamo e meditiamo la parola di dio la parola del signore che oggi è tratta da giovanni capitolo 3 versetti dal 31 al 36 ormai è passato già è il colloquio tra gesù e nicodemo oggi parla giovanni il battista che fa sue le parole di gesù bene allora chiediamo al signore lo spirito santo per ascoltare il suo amore per ascoltare questa parola che viene sempre illuminare illuminare la nostra vita nel nome del padre del figlio dello spirito santo ameno dal vangelo secondo giovanni chi viene dall'alto e al di sopra di tutti ma chi viene dalla terra appartiene alla terra e parla secondo la terra chi viene dal cielo e al di sopra di tutti egli attesta ciò che ha visto e udito eppure nessuno accetta la sua testimonianza chi ne accetta la testimonianza conferma che dio è veritiero colui infatti che dio ha mandato dice le parole di dio senza misura egli dallo spirito il padre ama il figlio e gli ha dato in mano ogni cosa chi crede nel figlio alla vita eterna chi non obbedisce al figlio non vedrà la vita ma l'ira di dio rimane su di lui parola del signore vedete o cristo bene cari fratelli questa parola lo dicevo prima parla giovanni il battista che inizia anche un dialogo dando testimonianza su gesù parlando di gesù io non ve l'ho detto io non sono il cristo così dice no e dirà tante cose belle prima di questi versetti lui deve crescere io invece diminuire e questo è giovanni il battista e lui inizia parlando di chi chi viene dall'alto perché perché riconosce questa questa dono di dio tanto amato di il padre il mondo di inviare il suo unico figlio e l'unigenito figlio di dio e questo amore viene dall'alto questo amore viene dal padre e al di sopra di tutti e al di sopra di tutti perché perché lui ci ha rivelato l'amore che viene dall'alto e al di sopra di tutti perché nessuno ci può amare come ci ha amato lui ecco perché per capire per accettare l'amore bisogna guardare in alto bisogna pensare a alla nostra vita bisogna pensare da dove veniamo dove andiamo qual è il senso della nostra vita ecco perché inizia così il discorso del vangelo di oggi chi viene dall'alto e al di sopra di tutti e allora ma chi viene dalla terra appartiene alla terra e parla secondo la terra questo lo sappiamo bene prima lo abbiamo detto i giorni scorsi che si parla qui di mosse dei profeti che annunciavano e denunciavano al popolo di israele il loro peccato il loro peccato allora stanno parlando questi parlano delle cose della terra e certo annunciano la parola di dio senz'altro la volontà di dio ma sempre alle cose della terra perché perché il popolo impeccato è un popolo che non guarda il cielo che non alza gli occhi è un popolo che guarda se stesso che guarda solo le cose di qua giù allora vediamo bene questo perché anche una parola per noi quante volte al giorno tu guardi in alto dici signore ti ringrazio per tante cose perché hai dato senso alla mia vita perché mi hai dato l'esistenza perché mi hai dato la vita perché mi hai dato una famiglia perché mi hai dato un sacramento il matrimonio il presbiterato eccetera perché mi hai dato tante cose belle chi lo fa lo facciamo spero di sì e allora quello che viene dall'alto attesta ciò che ha visto e udito ecco perché dio è veritiero perché perché lui vuole la stessa comunione tra lui e il padre la vuole per la sua chiesa e perciò manda lo spirito santo affinché tutti siano una sola cosa e che tutti siano testimoni dell'amore del padre questo e questo è quello è la volontà di dio manifestata in cristo chi accetta la testimonianza conferma che dio è veritiero sapete che parlare di testimonianza e allo stesso tempo parlare di dare e ricevere un testimone è una cosa che si dà una cosa che si riceve e anche un sigilo e dare una conferma e sigillare e un parlare di fedeltà e parlare di verità la testimonianza questo lo possiamo mettere su un solo concetto la testimonianza non è altro che l'alleanza nuova ed eterna manifestata in cristo gesù la nuova alleanza di cui parlava il profeta geremia questa nuova alleanza che non è come quella di prima scritta sulle tavole di pietra no questa è manifestata dallo spirito ecco perché dirà perché che dà lo spirito senza misura che senza misura egli dà lo spirito perché perché lui vuole per noi una vita non basata nella legge se non basata sullo spirito lo spirito lo spirito santo che fa risorgere cristo dalla morte questo è il potere perciò dirà anche il padre ama il figlio ha dato tutto in mano nelle sue mani ogni cosa ha dato in mano ogni cosa perché la mano rappresenta il potere e questo potere è il potere dell'amore di dio allora anche noi mettiamo tutta la nostra vita nelle sue mani e possiamo sperimentare questo potere dell'amore questo potere del perdono questo potere della misericordia il potere della riconciliazione il potere della verità questo amore che sorpassa la nostra la nostra vita nel nostro modo di pensare di amare di pregare eccetera è quello vive è quello che viviamo noi durante questo tempo di pasqua spero lo auguro per tutti voi e anche per me perché perché il contrario vivere e rimanere sotto l'ira di dio sapete che questo non è un'espressione che un dio come poseidon no come nettuno che che opprimevano no come i greci i dei greci che castigavano no agli uomini non è questa la figura di dio di dio nostro padre l'ira di dio non è un'altra cosa che l'ira del cuore dell'uomo che si allontana da dio non vi accorgete le persone che non credono stanno sempre a bestemmiare stanno sempre arrabbiate stanno sempre tristi ecco l'ira di dio e l'assenza di dio nella nostra vita questa è l'ira di dio questo è vivere sotto l'ira di dio perché chi non crede chi non accoglie il figlio chi non accoglie chi non crede nel figlio non ha vita è morto chi lo accoglie la vita eterna chiediamo al signore allora il dono della fede vi benedica dio onnipotente nel nome del padre del figlio dello spirito santo amen bene cari fratelli e sorelle vi invito a tutti quanti a lasciare le vostre preghiere i vostri saluti qua nella zona dei commenti piano piano un gruppetto lo sta facendo vi invito a non avere paura lascia lì un saluto da dove iscrivi dove sei eccetera a roma nettuno eccetera da dove ci ci saluti ecco e poi lasciasi sempre un mi piace mi piace e iscrivete al canale e poi attiva le notifiche e poi condividere anche il link di questa di questo video così ci aiuti a evangelizzare un abbraccio forte a tutti una bellissima giornata